Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con la meteo di TV6. Nel corso di questo venerdì 27 maggio avremo un graduale peggioramento del tempo a cominciare dai settori più occidentali a causa dell'avvicinamento di una depressione dal Mediterraneo occidentale. Il caldo tuttavia sarà ancora protagonista indiscusso da nord a sud con temperature fino a 7 o 8 gradi al di sopra delle medie del periodo. In Abruzzo si prospetta una giornata dai due volti al mattino a cieli poco nuvolosi o velati nel pomeriggio possibilità di temporali acquazzoni nelle aree interne, quindi principalmente in montagna, nel basso Aquilano, nelle aree più interne del Pescarese, qualche locale forte temporale con dei chicchi di grandine e qualche raffica di vento, fenomeni che poi si esauriranno rapidamente nel corso della sera. Temperature in aumento massime tra i 29 e i 32 gradi, minime fino a 20 gradi lungo le coste. Grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo appuntamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti.